Dare un'anima alla città metropolitana. Finora la città metropolitana è apparsa un po' come una provincia con un nome diverso. Quando in realtà noi andremo a un referendum confermativo nel prossimo mese d'ottobre che vedrà le città metropolitane essere nuovamente organo costituzionale insieme ai comuni e insieme alle regioni. Mentre invece le province non saranno più organi costituzionali, scompariranno dalla nostra carta fondamentale e probabilmente sempre più saranno una sorta di ente di secondo grado dei comuni con cui i comuni gestiranno alcuni servizi. Quindi questa città metropolitana che esiste in Italia nelle regioni statuto ordinario in 10 realtà, ovvero le conurbazioni urbane più strette, dovrà acquistare sempre più un'identità e ogni città metropolitana acquisterà la sua identità. Sarà molto importante la legislazione regionale e quindi la legislazione regionale non è nemmeno opera della Giunta, è opera dei consigli regionali. Quindi in questo osservatorio i consiglieri eletti nella città metropolitana fiorentina sono chiamati a dare il proprio contributo sia in termini di elaborazione di leggi che riguardano la città metropolitana, sia in termini di concentrazione degli interventi che si richiedono alla città metropolitana, sia in termini di prospettiva di nuovo sistema legislativo nazionale corrispettivo alle città metropolitane. Sulle città metropolitane intervierà molto il nuovo Senato e il nuovo Senato sarà composto da 100 persone di cui 74 saranno consiglieri regionali. Quindi anche questa funzione di raccordo con il nuovo Senato sarà significativa e conseguentemente questo osservatorio deve fare tutte queste cose.